Un'altra partita in esilio per la Fabiani Monsummano, domenica per la terza giornata di ritorno la squadra Andrea Nicolai ospiterà il Mami Oleggio ma sul Campaneudo di Ponte Bugianese e non al Palaterme, occupato da un'altra manifestazione ed è una partita importante contro Oleggio, una squadra che occupa le zone play-out, una partita che i bianco-blu vogliono vincere per allontanarsi quasi definitivamente dalla zona pericolo e pensare esclusivamente a raggiungere una delle otto posizioni che portano al play-off sarà una Fabiani rimaneggiata dall'assenza di Germa Scarone, fermo per il problema a Polpaccio almeno un mese anche Giorgio Sgobba non sta benissimo ma lui sarà certamente della partita, una partita che richiamerà sicuramente massima attenzione e determinazione fra i giocatori bianco-blu perché è una di quelle partite da non perdere andiamo a giocare su un campo dove non ci alleniamo mai quindi chiaramente non è il massimo però la cosa che conta è andare in campo, dare il massimo, giocare con tutte le nostre forze e portare a casa questa partita che per noi è importante Poleggio una squadra che dipende molto dal titolo di altri punti, un po' diversa rispetto a quella che avete battuto nettamente all'andata Sì, loro hanno avuto un inizio di campionato un po' problematico, ora hanno trovato serenità, hanno trovato qualche vittoria importante la squadra è piena di talenti, piena di esperienza con Ferrari, Coviello e Sacco è sicuramente una partita difficile, delicata come dimostra la loro vittoria per più di 20 punti a Bottegone Sarete ancora una volta in emergenza, Scarone starà fuori per un po' ma questo ormai non ti spaventa più all'emergenza siete abituati La squadra è un handicap all'assenza di German, cercheremo di sopperire nel migliore dei modi con maggior spazio a qualche giocatore che aspettiamo protagonista, con qualche arrangiamento tattico cerchiamo in ogni caso di vincere le partite che poi è quello che conta per arrivare a salvarsi Grazie 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 Grazie